Il mio nome è il mio nome di Marco Luca Pausa e Stima, Pol Poluca, che rivediamo di mercoledì e a cura del circolo di domani. Rivediamo con il professor Mauro Cosmaio, un psicanalista sessuolo, nonché saggista con il docente universitario, che ha scritto svariati libri, gli elenco I tabù della modernità, Armando Editore, gli ultimi libri sono Dizionario dei mali necessari, Dizione Croce, i prossimi libri riusciti a gennaio e febbraio, L'attesa, Il vero senso del tempo e L'individuo medio, Dall'utopia alla poria. E questa serie invece ci parlerà dei tabù individuo medio e religioni. di solito siamo sui 20, 20.000, 23,000 e poi lo vedete chi vuole intervenire. E poi lo vedete chi vuole fare domande. No, bello, uno che c'è. No, non c'è il tempo. Ma è un po' di... Allora, la professora Cosmai, che innamora questo nuovo ciclo di incontri del circolo di Roma, dell'Uguale. Allora, faremo una breve conversazione, una carrellata, su quello che riguarda strettamente i rapporti tra individuo medio, inteso per individuo medio la persona che la natura non ha dotato di particolari qualità a livello di materia grigia, e questo non è scambito certamente da titoli di studio o da altro, ma semplicemente dalla capacità o meno di non volersi adeguare e di voler riuscire, anche poi è il tema del libro, non entrare in cosiddetto grece. Cioè l'individuo medio può non esserlo nel momento in cui, per esempio, senza tanti paroloni, si rende conto di essere un individuo medio. Cioè, si rende conto, come tutti dovrebbero renderci conto, dei nostri limiti. Nel momento in cui si rende conto di questo e cerca di capire, non è già più un individuo medio, anche se non ha titoli di studio, anche se ha delle capacità limitate. Perché? Perché raggiunge, per certi versi, lasciatevelo passare, il grado, la posizione della saggezza, che non è patrimonio soltanto, o non lo è affatto, di soloni e professoloni, che spesso passano il tempo più che altro a piccoli giochi di potere, ma è la persona che si rende conto dei propri limiti. La nostra forza è la conoscenza dei nostri limiti. Questa è la nostra forza. La nostra certezza è quella di non avere certezza. Tutto il resto sono costruzioni umane che da sempre infiorano la nostra esistenza e che permettono a questi individui medi di prosperare e di ascersi, di vivere, di continuare a muoversi in questa realtà, accettando tutto quello che viene imposto. Le religioni, in questo senso, hanno un preciso scopo. Dire all'uomo quello che deve fare, chi è, qual è il suo positioning nella vita, e quindi tutto va bene. L'individuo non medio è quello che, vivendo in una realtà, come tutti noi siamo qui, però non accetta che gli vengano imposte delle regole, delle costruzioni umane, delle situazioni evidenti, delle assurdità, dei tabù, delle superstizioni e quant'altro. L'elenco infinito è inutile che io ve lo occupo. Naturalmente ci sono anche individui medi tra persone che hanno successo, quindi persone che hanno comunque potere, notorietà, però queste persone possono essere anche medie nel senso che si adattano perfettamente alla condizione di medietà, lasciatemi passare questo termine, oppure sono quelli che io chiamo individui finti medi, cioè individui che accettano, si conformano, si plasmano, si adeguano a quella che è una realtà, pur capendola perfettamente anche nelle sue assurdità, proprio perché è l'unico modo che hanno di poter avanzare, di poter avere il plauso. Infatti il successo di solito è legato alla padronanza, all'attinenza, delle condizioni che abitualmente le persone vogliono. Questa è la realtà. Facciamo un esempio molto pratico. Non per citare il caso personale. Immaginatevi io a un congresso, faccio il sessuologo da oltre 35 anni, vado a un normalissimo congresso e dico il profilatico qualche volta però va giustificato. In effetti qualche volta l'uso del profilatico potrebbe essere giustificato. Mi guarderebbero come un pazzo. Direbbero ma questo si sta prendendo in giro oppure è fuori di testa. È una cosa talmente ovvia. O come per esempio poter dire, guardate, che la masturbazione fa parte del naturale, detto proprio in parole, del naturale percorso della nostra esistenza, della conoscenza del proprio corpo, delle sue reazioni, semmai vi dovreste preoccupare di un figlio che non si masturba, non di un figlio che si masturba. Se dicessi queste due cose, un congresso di sessuologia, mi guarderebbero con gli occhi fuori da l'era e direbbero è impazzito, è ovvio che sia. Se invece viene detto da un'altra persona, allora ecco, è la famosa teoria dell'ipsedixit, come io ho già spiegato in un altro libro diversi anni fa. Se viene detto invece in un altro contesto, allora si parla di progressismo, di apertura, di... Quindi vuol dire che c'è qualche cosa, allora che non va. Dobbiamo capire questo. Sembra scontato, sembra ovvio, ma in realtà non lo è. Cioè allora i contenuti variano a seconda di quello che viene detto, il famoso ipsedixit. Aveva detto Aristotele, per cui... C'è gente addirittura che si rifiutava di guardare nel telescopio perché avrebbe dovuto toccare con occhio, se non con mano, da visu una situazione che invece non era quella. Quindi noi arriviamo e viviamo in queste... Il Malinowski, che era un noto antropologo, diceva che la religione, come il tabù, perché c'è una sorta... Adesso qui non vorrei annoiarvi con una serie infinita di teorie, se c'è prima il tabù, prima la superstizione, prima i rituali, poi la religione. Ci sono varie teorie, ve le potrei raccontare, ci vorrebbe una settimana. Diciamo comunque che più che i tabù, i rituali, le superstizioni insorgono, e forse... Quando il nostro sforzo di conoscere risulta vano, quando un uomo si accorge che non riesce a capire, a penetrare, a comprendere, a spiegarsi qualcosa, allora ha bisogno di... Invece i neuroscienziati, i cultori delle neuroscienze, invece propongono una parte di noi, un biochimismo, scusate la grossolanità dell'esposizione, che invece fa sì che alcuni abbiano bisogno del trascendente, e altri no. Però è tutto da dimostrare questo, è tutto da vedere. Quando c'è questo fallimento dello sforzo conoscitivo, noi ci rivolgiamo al trascendente, al soprannaturale. E quindi creiamo tutta una serie di situazioni. E poi creiamo il Dio personale, creiamo degli dei personali. Ogni Dio è assolutamente personale. Poi vi dimostrerò anche perché io, studiosi ben più avanzati di me in questo campo, ognuno di noi si crea un suo Dio. Pensate che hanno censito, alcuni hanno detto che le divinità indiane sono addirittura non migliaia, ma milioni, milioni. Non si possono quantificare, ma milioni, cioè non migliaia o centinaia di migliaia, milioni. Perché ognuno da Ganesha, ognuno si crea il suo Dio personale, come diceva giustamente Feuerbach, vi ricordate, non è Dio che ha fatto l'uomo su immagini e su omiglianza, ma è l'uomo che ha fatto Dio su immagini e su omiglianza. Vecchia famosa frase, però ogni tanto andrebbe anche a ricordarlo. Non ci sta male. E la religione diventa privata, soprattutto quando entra nella nostra sfera personale. Il calciatore che entra in campo e si fa il segno della croce, in effetti dovrebbe essere visto da chi credeva in un atto di blasfemia, o un Dio che si deve preoccupare di un calciatore che in quel momento deve interagire il campo, magari si fa il segno della croce non per non farsi male, ma per segnare magari il gol della vittoria e quindi guadagnarsi la Porsche, il regalo, il presidente, che ne so. Capite? Vedete come la divinità viene completamente utilizzata. Il tabù è una sorta di preparazione alla divinità. Quel qualcosa che non viene utilizzato, quell'oggetto, quel luogo, quella situazione, quel comportamento, è un qualcosa che sfugge alla nostra conoscenza. Lo si fa, ma non si sa bene perché. Poi se studiamo, antropologicamente, possiamo vedere tutti i vari significati, tutto il processo di causa-effetto, eccetera, eccetera. Però sta di fatto che ci imponiamo qualcosa, per esempio il tabù occidentale e il tabù sessuale. Quindi per noi è molto importante, e tutti noi ce ne portiamo ancora le cicatrici, ha una sua funzione ben precisa. Mentre in altre culture, per esempio, non so, in Guinea, ci sono delle tribù dove, per esempio, c'è una capanna centrale dove i ragazzi, quando cominciano ad essere preadolescenti e adolescenti, vanno lì e si accoppiano, si incrociano per imparare il sesso, perché per loro, poi magari hanno un altro tabù, non possono entrare in quel cerchio magico, non possono salire sulla collina, toccare il totem di pietra, però quel tabù non esiste, cioè loro, per loro è normale, imparano, conoscono il proprio corpo. Quindi noi siamo anche vittime, come individui medi, dei tabù che di volta in volta ci vengono proposti e che, non dico niente di nuovo, hanno dei precisi scoppi, hanno delle finalità ben precise che riguardano appunto l'assoggettamento e anche la necessità. In fondo, se guardate bene, anche i contenuti stessi delle religioni hanno delle precise funzioni anche in rapporto alla sociogiografia. L'Islam ha delle regole, delle ipotesi, delle sue sure, ben precise, che sono a livello delle persone che le devono comprendere, nel senso che non devono far questo, non devono far quello. Noi invece, non solo nell'Occidente, il cristianesimo ha creato una serie di regole che vanno dal rispetto di certe cose al tabù, a tabuizzarne altre. Poi, come già ebbe modo di specificare Kant, ma anche prima di lui, ma Kant in particolare, spiegò che l'errore principale è quello di confondere la religione con i rituali. Cioè, il conto è la religione, il conto è il conto subituale. In pratica diceva che in fondo la religione sono norme umane che dovrebbero essere concepite e utilizzate per la civile convivenza elevate a rango divino. Anche qui scusate la estrema e grossolana sintesi. Da qui, queste necessità, dove noi andiamo avanti. Quindi la divinità è strettamente collegata alla sociogiografia. Pensate persino anche che il Vecchio Testamento, se voi leggete il Vecchio Testamento, la religione degli ebrei, in effetti se noi dovessimo farlo leggere a una persona estranea a questa realtà terrestre, dove vede un Dio che si allea con quello, si incavola, si offende, sceglie un popolo, ordina di sterminarne un altro e viene visto come divinità, se fosse là, direbbe, ma qui siamo nella follia pura, direbbe, c'è poco da fare. Può essere concepibile un Dio anche avendo rispetto del concetto di Dio, un Dio che si allea con uno, prende in antipatia l'altro, privilegia un popolo rispetto a un altro. Vedete come il respiro umano purtroppo... Eppure noi accettiamo perché? Perché la maggior parte delle persone che ci circonda sono individui medi e quindi come tali hanno bisogno di... Una volta che mi ricordo parlavo con uno e dissi guardi che lei adesso è nato qui quindi è cristiano ma venisse ma se fosse nato nel Borneo se fosse nato a Chioto sarebbe scintoista adesso o se fosse in Guinea sarebbe animista o in un'altra parte non saprebbe magari manco... Cosa mi ha risposto? Meno male che sono nato qui allora ed è riuscito a lasciarmi di stucco cosa abbastanza difficile in effetti meno male che sono nato qui cosa si può rispondere da questo? Che lasciarsi stucco non si può ha dato la risposta appropriata all'individuo meteo che definiva stucco nel senso che non mi aspettavo così le pettine e quindi questo Dio diventa poi un grande uomo diventa un uomo con tutte queste componenti che è inutile che mi spieghi perché poi la letteratura sull'argomento è vastissima però quello che è importante sottolineare è che nel momento in cui le religioni entrano come succede da noi dove un certo tipo di religione vuole entrare prepotentemente nella vita sociale il che non può essere in questo caso si può parlare di anticlericalismo perché semmai si potrebbe dire possiamo essere aclericali non c'è quasi mai il livore del non credente nei confronti del credente e viceversa invece il livore che spesso ha il credente quasi sempre nei confronti del non credente e come ce lo spieghiamo perché questo va a rompere ovviamente lo sapete già va a rompere certi pseudo equilibri non c'è Grazie a tutti.